Si torna a sparare a Napoli in pieno giorno, succede in via Bernardo 40 a San Giovanni a Teruccio, periferia orientale del capoluogo campano. A morire sotto i colpi dei killer Giovanni Bottiglieri, 32 anni, con precedenti per estorsione, rapina e ricettazione. Secondo una prima ricostruzione della squadra mobile Bottiglieri è stato avvicinato da due persone in scooter con il volto coperto dal casco all'interno di questo centro scommesse e freddato con diversi colpi di arma da fuoco. Scene di disperazione ci sono state quando i parenti della vittima sono arrivati sul luogo dell'agguato. Bottiglieri era ritenuto dagli investigatori leggente del clan camorristico Aprea, attivo proprio nella zona est di Napoli. La strada dove è stato ucciso Bottiglieri fu teatro negli anni 90 di un altro agguato, dove morirono il padre e i fratelli Altamura. Poche ore fa, nella notte tra lunedì e martedì, sempre a San Giovanni a Teruccio, un altro pregiudicato, Vincenzo Tranquilli, è finito sotto i colpi dei killer e è attualmente ricoverato in gravissime condizioni all'oretto mare. Gli investigatori stanno valutando se c'è una correlazione tra i due episodi. La paura è quella di una faena nascente.